ciao ragazze ciao ragazzi grazie e benvenuti ben ritornati sul mio canale vi ringrazio per aver cliccato sull'anteprima di questo video come avete letto oggi andremo a scoprire il brand low cost del mese che è appunto she glam che è sostanzialmente il brand makeup lanciato dal noto sito sheen con sito dove solitamente si acquista abbigliamento che ormai è veramente molto diffuso se non lo conoscete andate a curiosare perché hanno un'ottima politica di reso quindi comunque sia si possono prendere dei prodotti ad un ottimo prezzo avere la garanzia di poterli rendere quindi ad un certo punto sheen lancia la sua linea makeup che ovviamente in linea con il brand è una linea molto economica se la regia ci aiuta vedremo che negli scorsi mesi c'è stato un periodo in cui il tubo è stato invaso da video dedicati appunto alla linea makeup di sheen regia come abbiamo potuto vedere ho voluto attendere per portarlo sul canale perché queste persone le hanno ricevuti ovviamente in omaggio quindi hanno fatto uscire tutti questi video insieme mi sono detto aspettiamo un pochino che scenda un attimino l'hype per vedere invece insomma noi che li andiamo a comprare cosa pensiamo realmente di questi prodotti perché io questi li ho tutti quanti pagati di tasca mia in realtà ce li ho a casa già da un po di tempo ma andremo soltanto oggi a provarli una first impression perché non ho utilizzato nulla ancora e l'ho soltanto aperti per vedere se c'era necessità di rendere qualcosa è arrivato tutto integro dopo di che ho cercato di reinserirli nelle proprie custodie per farvi vedere come vengono impacchettati per la spedizione mettiamo il nostro solito cerchietto oggi ci trasformiamo in biancaneve e iniziamo subito a testare questi prodotti ci tengo a precisare solo una cosa ho voluto per quanto riguarda il fondotinta siccome sheen permette di prendere i campioncini avendo io vagonate di fondotinta aperti ho deciso di prendere un campioncino costa un euro l'ho pagato 80 centesimi questo perché anche il make up così come l'abbigliamento è scontabile utilizzando i codici sconto che si possono trovare sia sul sito che in giro insomma quindi l'unica cosa che non si può fare rispetto all'abbigliamento è il reso però si possono assolutamente acquistare i campioncini del fondotinta ripeto pagato 80 centesimi scontato in realtà il costo della full size è di 8 euro io ho preso questo che è un long lasting quindi un fondotinta fluido ho preso la colorazione nude speriamo bene arrivano addirittura i campioncini con ecco qua la plastichina intorno penso e spero che sia sufficiente sono 1,5 ml di prodotto se non dovesse bastare adesso scoprirete anche perché ho deciso di prendere il campioncino a breve lo scopriremo insieme nel frattempo vi invito qualora non l'abbiate già fatto vi fa piacere questo è il fondotinta così vedete anche un attimo la consistenza vediamo che sia un pelino oscuro vi invito ad iscrivervi sul canale è completamente gratuito mi raccomando attivate la campanellina in modo da essere avvisate no forse ci siamo col colore non appena pubblico un nuovo video allora no dai sembra esserci considerando che probabilmente ossiderà quel pelino che lo renderà perfetto vi rivedo questa è la colorazione nude allora considerando che l'ho messo pochissimo ce n'è ancora nel campioncino penso che ce la dovremmo fare devo dire che ha una buona copertura perché come avete potuto vedere io insomma di imperfezioni ne ho da vendere al mercato praticamente devo dire che come copertura sono abbastanza soddisfatta allora ragazzi l'altro motivo per cui ho deciso di prendere solo il campioncino del fondotinta è perché il correttore che sono andata a prendere che costa originariamente 3 euro l'ho pagato 2 euro e 40 perché gli sconti sono appunto applicabili anche al make up ho preso questo che è nella colorazione 204 figi come potete vedere è una sleppa enorme di correttore sono esattamente 25 grammi quindi mi sono detta male che va se il fondo non basta o è veramente troppo poco coprente possiamo utilizzare lui perché guardate che roba c'è penso che non basti una vita e mezzo per utilizzare tutto quanto questo correttore il correttore si presenta in questo modo è molto simile come colorazione al fondo e andremo con la blender piccolina ad applicarlo sul nostro contorno occhi non messo veramente troppo allora il colore è perfetto vi ripeto il 204 fuji sembra molto molto coprante bisogno di uno specchio che non ho preso ovviamente devo dire buona copranza via quel che costa ora vedremo se si può insinuare nelle rughette a breve vi ripeto questa è la colorazione bene dopo aver fatto questo ho voluto ovviamente prendere anche una cipria in questo caso la cipria in polvere libera la classica translucent quindi senza colorazione però è una cipria illuminante il costo anche in questo caso era di 3 euro pagata scontata 2 euro e 40 sono la bellezza di 5,5 grammi di prodotto ovviamente tutti questi prodotti ragazze vedete translucent sono made in cina cinese anche se arrivano dal magazzino europeo per questo sono così rapidi nelle spedizioni il packaging è molto semplice nelle loro semplicità li trovo abbastanza eleganti all'interno il suo puff e si presenta normalmente in questo modo ha ovviamente la pellicola salva freschezza diciamo così che blocca la polvere o le sembra talcom ma non è serve a darti l'allegria se lo lancio il loro spiriti da subito l'allegria improvvisamente vado con un pennello da cipria le sto sporcata tutta è molto bianca e vado innanzitutto a fissare il contorno occhi secondo me questa fa un botto di fallout se di fallout ragazze aiuto di flashback e sbianca tanto sapete assomiglia un po' a quella di agon quello che non vedo assolutamente è l'effetto glow molto asciutta sottile non ha buona cipria per 2 euro stiamo parlando di 2 euro e 40 poi vedremo nell'arco della giornata come si comporta mi sembra giusto che sbianchi un pochino ok ho preso anche un blush perché le altre due sono due palette il blush è questo sempre 3 euro pagato 2 euro e 40 si presenta in questo modo ed è un blush matte vedete che carina la confezione di questo questo è il packaging del blush molto carino ha qui all'interno il suo specchietto quindi finalmente potrò sterbarmi un attimino la bate la velina salva freschezza e questo è il blush all'interno andiamo con il blush vediamo se è pigmentato o meno sembrerebbe di sì dal beh sì decisamente sì il blush c'è e si vede in odore completamente in odore bello il blush mi piace si fa anche sfumare bene molto pigmentato molto bello il blush mi è piaciuto e arriviamo ai pezzi un pochino più succulenti che sono la palette occhi e appunto una palette viso allora la palette viso e questo è il packaging così come arriva originariamente costa 4 euro io l'ho pagata 3 euro e 20 arrivano con la loro plastica con questo protezione di polistirolo che è completamente avvolta dallo scotch ripeto io l'ho già aperta per controllarla in più la palette voi adesso non lo vedete non la vedete più aveva una velina che la chiudeva mi sa che questa però è quella occhi scusate quindi quella occhi viene 5 e io l'ho pagata 4 se non erro ho preso questa lost to lava palette ecco Sara rompiamo tutto le tenute integre fino adesso c'è la confezione esterna e questa è la palette all'interno e confermo che è quella occhi non ha lo specchio ha la sua velina di protezione e questa è la palettina io la trovo veramente molto molto carina vi ripeto questa viene 5 euro io l'ho pagata 4 euro mentre la palette occhi è questa cosa giganterrima che come vi ho detto ho pagato 3 euro e 20 ma costa 4 euro si chiama 3D Pro Palette Copper questa è la confezione esterna anche questa aveva ovviamente la plastica che la sigillava e all'interno si presenta in questo modo ricorda vagamente ispirata io questa neanche l'ho aperta per dirvi vedete la plastica di protezione la togliamo insieme ricorda vagamente un qualcosa di huda ma leggermente questa è la palettina inizio con il colore di transizione e andrò ad utilizzare questo che si chiama Abstract sembrano molto pigmentati vediamo se riusciamo poi a farli rendere sul viso a dovere wow ragazzi bello pigmentato e non ho la base fatta cioè nel senso sto proprio a secco quando si parla della mia palpebra si parla del secco vero ottimo direi che tutto sommato non ci si può lamentare qua non mi sta aderendo bene ma a un punto dove io ho la palpebra molto secca quasi quasi dall'altra parte lo proviamo con almeno il correttore sotto poi vado a prendere ecco questa forse è una nota negativa di questa palette che ha quattro matte ma non non il colore più scuro perché il colore più scuro della palette è questo che si chiama Raven e come potete vedere è un metal particolare che ha all'interno una qualche pigmento rosso però vi ha sbocciato questo metal un pochino si va a perdere penso che andrò ad utilizzare quello questo vediamo un po' no vado ad utilizzare Raven è il primo che ho sbocciato per fare la parte più intensa a modo mio ovviamente ragazze lo sapete io non è che sono una mega artist sono una comune consumatrice che ama spendere i suoi soldi nel make up vediamo perché la nota dolente arriva sempre con i colori scuri e infatti anche in questo caso facciamo fatica a farlo scrivere cioè sembra quasi nero anche lo swatch poi sull'occhio fanno fatica proviamo con un pennello più morbido un pochino meglio però rimane comunque a marrone non scuro quantomeno non scuro come in cialda sicuramente non sembra un metal ecco peccato perché il primo arancione ci aveva un po' in luso ok penso a questo punto di lasciarlo così sono curiosissima di provare come colore questo marmorizzato qua che sembra molto carino oppure questo sono un po' asciuttini questo è molto arancione mettiamo l'arancione va distacchiamoci un po' dai nostri colori di base ragazzi devo pulire dagli swatch se no faccio un casino torno subito eccoci qua alla fine ho optato per l'arancione perché sinceramente questo colore chiaro lo vado ad applicare direttamente col dito perché temo che col pennello vedremo la metà di nulla ecco infatti quel dito è molto carino sicuramente col pennello non avrebbe sicuramente avuto la stessa resa eccolo qua e con il primo pennello l'originale che fu quello dell'arancione andiamo a riprendere un pochino il colore di transizione non lo ha ripucciato eh allora sotto per tentare di provare più colori possibili andiamo ad utilizzare questo deep tinker e portiamo un po' il colore sotto vediamo un pochino che succede così ne abbiamo usati un po' di più di colori e questo sembra molto pigmentato decisamente meglio i matt in questa palette infatti guardate questo quanto scrive ok ragazzi direi che meglio di così è difficile farlo vado a fare fuori camera l'altro occhio ci rivediamo per sopracciglia per provare questi illuminanti e per il rossetto tra pochissimo ok ragazzi anche il secondo occhio fatto vado adesso alle sopracciglia e ho preso questo prodotto qua sempre 3 euro pagato 2 euro e 40 ho utilizzato il 5% di sconto il packaging è molto bello è semplicemente una matita con micromina io ho preso nella colorazione 3 che è l'hash brown però devo dire si presenta veramente molto molto bene il packaging è carino vi ricordo sempre che è un prodotto che ho pagato 2 euro e 40 all'interno ha una confezione molto semplice ma veramente tanto carina come c'è addirittura segnato di lato qui c'è il pennellino per pettinarle e qui c'è effettivamente la micromina andiamo a vedere come si comporta sulle sopracciglia devo dire che i packaging sono veramente carini per il costo che hanno i prodotti diciamo che di massima riordinerei sinceramente per fortuna ho preso l'hash brown perché penso che il brown fosse veramente troppo scuro la micromina è molto precisa scrive subito ma non in modo troppo intenso quindi per il momento mi sta piacendo molto devo tra l'altro di sistemarle le sopracciglia perché sono veramente arrivate bella la matita per le sopracciglia mi è piaciuta veramente tanto molto precisa speriamo che duri tanto pensierando che poi io ce l'ho disastrose di mio a sto periodo per disastrose di mio intanto che vanno ripulite sistemate accorciate chi più ne ha più ne metta ok devo dire che mi è veramente piaciuta la matita molto precisa facile da utilizzare scrivenza secondo me giusta nel senso che non è troppo morbida né troppo dura speriamo in una buona durata ci piace ragazzi non ho preso mascara adesso ne andrò a prendere uno di là ci rimane appunto la palette viso vediamo questi illuminanti se sono utilizzabili quando li ho sbocciati prima hanno tre consistenze completamente diverse nel senso che questa terra che in realtà è veramente tanto calda quasi arancione è morbidissima questo è estremamente ruvidino questo è il classico illuminante bello morbidino e questo anche è parecchio ruvido quindi ragazze tentiamo di scaldarci un pochettino con questa terra utilizzo lo stesso pennello del blush sperando di attenare l'effetto arancione l'effetto umpa l'umpa a maniera che paura veramente tanto arancione scarichiamo scarichiamo ok qui è un voto diffondi Sara ti fa molto scrivente però si sfuma bene ripeto peccato che la tonalità ripeto questa la palette è copper è veramente un po' troppo arancione per me tutto arancione sto make up poi non c'entra niente col col blush come illuminante non so quale andare a mettere penso perché è scura come palette in realtà per me proverò a mettere l'oro che è quello un pochino più morbidino se no guardate è rosa tanto scempio per scempio che altro perché sembra poi il meno granuloso sulla pelle il meno spesso anche se c'ha dei bei glitter ozzi ma niente di che direi e ragazzi ci rimane il rossetto e poi metterò il mascara e ci vediamo per le conclusioni finali il rossetto è questo è il candy matte lipstick l'ho pagato 1 euro e 60 veniva 3 euro perché era in promo quindi oltre allo sconto del 20% era già scontato di suo il colore è il 608 nude pink e all'interno il packaging è questo molto molto semplice ma io personalmente lo trovo veramente tanto elegante e il colore insomma il mio classico nude e mi dà un sacco di gioia questa cosa veramente tanta allora questo è il rossetto devo dire molto cremoso subito pigmentato alla prima passata secondo me non sarà ovviamente uno transfer considerate però che l'ho pagato 1 euro e 60 devo dire che il rossetto non mi dispiace per nulla metto al volo al volo un mascara fuori camera perché tanto non è di Shein e ci troviamo subito per le osservazioni finali ecco fatto decisamente meglio con il mascara non è un mascara Shein non lo ricordo è il mascara di Faberlic questo allora ragazzi osservazioni finali allora partendo dal presupposto che tutti questi prodotti sono costati veramente pochissimo e che hanno un packaging veramente molto molto carino quello che vi consiglio assolutamente di provare sono le matite per la sopracciglia a me è piaciuta tantissimo il rossetto devo dire che è veramente un bel rossetto matt subito pobrente e costano veramente pochissimo questi sicuramente sono da provare così come il blush il blush ha un bellissimo packaging costa poco c'è tantissimo prodotto e al di là della colorazione che può piacere o meno ce ne sono ovviamente altre è pigmentato si lascia sfumare bene quindi sicuramente anche il blush meritano una chance quello che che invece non mi è piaciuto sono la palette per il viso per me è un no grosso come una casa anche se costa molto poco il packaging è veramente carino probabilmente la colorazione che è sbagliatissima per me però secondo me è tanto fumo e niente arrosto mentre vi direi di provare assolutamente la palette occhi perché i matt sono buoni un po' asciutti ma devo dire buoni buona pigmentazione gli shimmer mi hanno lasciato un pochino così anche se il glitter prestato questo arancione mi è piaciuto però sono certa che avendo io una palpebra molto secca utilizzando la già con una base umida o ovviamente utilizzando una colla per il glitter e qualsiasi cosa che utilizzerai normalmente per far rendere di più la palette per quello che è costata li vale è bellina ragazze cioè secondo me è bellina già solo i matt ne valgono la pena poi devo dire che i glitter ripeto la prossima volta li utilizzerò con una colla per glitter o comunque con una base umida già hanno reso così quindi penso assolutamente di potervela consigliare l'ho pagata 4 euro quello che non mi è piaciuto che credo non sia adatto ad una pelle secca è il fondo tinta però per fortuna ci permettono vi permettono di provare il campioncino quindi il mio consiglio è quello di provare con i campioncini per vedere se il fondo si adatta alla vostra pelle e anche perché no per provare i colori in modo di andare a botta sicura quello che invece non mi ha fatto per nulla impazzire soprattutto nel contorno occhi è il correttore perché me l'ha segnato perché non ha questa coprenza estrema cioè se devo avere un contorno occhi appesantito che almeno sia completamente piallato e niente ragazzi vi ho fatto vedere tutto anche la cipria è vero che costa poco diciamo che se vi serve una cipria in polvere libera traslucida da utilizzare senza dovervi preoccupare di sprecarla o per portarla in giro si può anche fare altrimenti secondo me sbianca un pochino troppo e è evidente sulla pelle quindi lo provate sicuramente di meglio magari non a questo prezzo ecco però direi pure la cipria si può assolutamente sorvolare spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere sotto fatemi sapere sotto quanti di voi hanno provato questo make up di Shein quanti di voi utilizzano semplicemente Shein ma soprattutto iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina un bacio grande grande ragazzi e vi ringrazio per aver visto questo video e vi ringrazio